Buongiorno, Aldo Montinaro, responsabile tecnico di Intercampus, progetto DFC internazionale Milano. Sono qui gentilmente ospitato dalla federazione iraniana a Cervia, dove la nazionale Anderventi sta per incontrare la nazionale di parietà italiana. Stiamo discutendo del futuro del progetto Intercampus in Iran. Abbiamo idea comunque di sostenere quello che è lo sviluppo del calcio nel paese, che in questo momento sta avendo grandi risultati, soprattutto attraverso ottimi risultati con le proprie nazionali giovanili, ma anche con la nazionale maggiore. Con l'idea comunque di poter amplificare ancora di più quello che è il messaggio sociale che vuol portare Intercampus attraverso la federazione iraniana, che ha dato disponibilità per veicolare il progetto, oltre che dall'ambito della formazione degli allenatori della federazione, anche in sostegno, soprattutto in supporto alle comunità di bambini e adolescenti un po' più sfortunate, che magari hanno bisogno di strutture più opportune e anche magari di un livello tecnico degli allenatori che gli possa consentire di avere le stesse opportunità degli altri. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.